Buongiorno, buongiorno, oggi vi volevo dedicare un bel gelato, tre pane, è una bella crema catalana, amico mio che viene dalla Spagna, volevo parlare di questa insensibilità che c'è nei confronti della musica, delle mie canzoni, io non voglio fare come Sgarpi, capre studiate, non voglio offendere nessuno, però è possibile mai che davanti alle mie canzoni che io faccio ascoltare gratuitamente senza chiedere niente a nessuno, ci sono solo sul mio canale, le visualizzazioni bene o male vanno bene, ma ci sono solo 247 iscritti, ma non vi vergognate di questa vostra insensibilità, di andare dietro alle larità, alle cazzate e di non andare dietro alla cultura, dietro alla musica, vergognatevi! e quando ci vuole, ci vuole, fate come volete, non ci sono problemi, l'iscrizione è importante in un sito di un cantautore, perché? Perché così vi rende partecipi in maniera totale al 100%, se poi volete rimanere fuori da questa situazione, sono problemi vostri, però è vergognoso questa vostra insensibilità, ci vogliono più iscrizioni, io non lo faccio perché devo prendere i soldi, ma è vergognoso che in questo paese la gente va dietro alle puttanate ed è insensibile davanti alla cultura, vuol dire essere proprio ignoranti, continuate ad esserlo! forse! forse! l'amore! per tutto! per tutto! per tutto! dopo! per tutto! bene! per tutto! per tutto! per tutto! per tutto! per quello che guarda è usare da noi, ci saranno ci passe bella palla perciò questo lo dedichiamo a tutti quelli che ci vogliono bene a tutti gli stronzi che non si inchinano davanti alla musica che non ti danno soddisfazione perché che persone siete siete degli ignoranti non ti danno soddisfazione lo dedichiamo a tutti quelli che sono stronzi che sono insensibili alla cultura andate dietro alle cazzate che vi troverete sempre bene nella vita questa purtroppo è l'Italia veramente buona è l'Italia Lo dedichiamo a tutti quelli che ci vogliono bene. A la prossima, a tutta l'ora.